Una pagina storica perché le consorelle erano presenti in questa contraternita grazie al lavoro che fa Franco Gliallettore, lo abbiamo provato in maniera documentale erano presenti verso la fine del 1800, poi all'inizio del 1900 sono state messe per inolanza dagli uomini quindi la contraternita ha assunto una dimensione e un'impronta prettamente maschilista oggi che le donne hanno dimostrato in tutti gli ambiti della vita lavorativa e professionale di essere probabilmente più in gamba degli uomini non aveva più senso avere questa preclusione quindi abbiamo ritenuto di fare una cosa doverosa le 5 consorelle sono tutte motivate, io non le devo citare tutte Cate e i nipoti di un confratello, Maria Antonella e Pino Montano hanno già realizzato un piccolo record sono i primi germani, fratello e sorelle che sono presenti e presteranno servizio nella stessa confratella quindi figli entrambi di un grandissimo confratello della professione Pietro Montano Maria Pia è figlia di un priore, Giuseppe Montano Anna Maria con Cosimo, Anna Maria è nipote di un confratello che è stato un buon emblema di attaccamento a questa confratella Francesco di Piazza e Anna Maria poi con Cosimo realizza un piccolo record che sono i primi congi, marito e moglie che presteranno servizio contemporaneamente effettivo nella confratella Giovanna Corribolo è figlia di un confratello diciamo anziano e poi ci sono i due maschi, Antonio e Vincenzo non hanno come dire trascorsi di discendenza nella confratella ma sono tutti e due motivati a dare una dimensione diversa alla loro vita e noi li abbiamo accorti volentieri e vi posso assicurare che ci sono già molte adesioni quello che abbiamo fatto è un processo di ammodernamento attraverso il nuovo statuto statuto interno ovviamente in attesa di quello che ci sanno ed il processo che abbiamo realizzato stasera è frutto di una persona che lo aveva iniziato sia la revisione dello statuto e sia come dire l'ingresso delle donne e mi riferisco a Bernardo Maverone Parmini che sapete 5 anni si fa ci ha lasciato noi dicemmo in quell'occasione che lo scrivemmo perché verba vola diciamo in questa mano che il modo migliore per onorare la memoria di Bernardo era quello di fare quello che lui avrebbe voluto fare e quindi noi in questo mese, in questi mesi abbiamo fatto quello che Bernardo avrebbe realizzato quindi questa sera ci sembra doveroso chiudere questa serata e non andare via perché le consorelle e i confratelli vorranno in maniera molto come dire, parca, blindare con noi il segno di ben auguri lo sapremo qua velocemente ecco quindi noi stasera vogliamo tributare questo omaggio a Bernardo ci manca, è la prima novena che facciamo senza di lui ne sentiamo tutti il peso perché senza Bernardo le attività si sono, come dire, raddoppiate ma vi ripeto, noi stiamo facendo quello che lui avrebbe fatto quello che lui ha iniziato e quindi siamo contenti e chiede come se fosse qui stasera in mezzo a noi voglio ringraziare anche Don Enrico perché senza il suo supporto, la condivisione noi non avremmo fatto niente ci sono stati decenni di inerzia perché non si riusciva, come dire, non c'era l'input ad agire Don Enrico ci incoraggia, ci sostiene e questo è fondamentale quindi mi domina Anfora Magarone a venire qui la motivazione è questa con Fraternita e Vatolata Concezione di Alinola a Bernardo Magarone Palmieri a testimonianza della sua profonda devozione all'Immacolata Concezione il ricordo del suo attaccamento alla confraternita alla festa dell'Immacolata e del suo straordinario impegno profuso di tanti lunghi anni in qualità di segretario prima e di priori dopo esempio fulgito per tutti i confratelli per la carità cristiana l'appautananimo, la signorilità, la semplicità e l'amore verso il prossimo e i confratelli che hanno caratterizzato la sua esistenza con stima, affetto e gratitudine perenne da parte di tutti i confratelli e le consorelle Carinola 7 dicembre 2016 Grazie alla confraternita, a tutti i confratelli e un augurio ai nuovi, alle consorelle e sicuramente Bernardo in mezzo a noi pregherà per questa confraternita alla quale temelo tanto io da parte mia ho voluto rilegare la sua memoria a l'immacolata la quale temelo tanto grazie 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 grazie